Sì, con questo emendamento noi ricordiamo che il pagamento del canone è dovuto per poter esercitare un'attività produttiva in uno dei mercati di Roma Capitale e costituisce la fonte principale per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati. Quindi si paga Roma Capitale per esercitare l'attività produttiva. La precedente convenzione decaduta valida fino a giugno attraverso l'affidamento di una percentuale elevata dei fondi senza alcuna garanzia che i fondi fossero utilizzati interamente per il mercato e senza alcuna vigilanza su come questi fondi fossero spesi aveva creato una situazione di degrado grave e diffuso dovuto al fatto che le opere di manutenzione in alcuni casi non venivano realizzate. Quindi noi chiediamo una corretta gestione dei mercati di Roma Capitale, l'instaurazione di un rapporto e una comunicazione stretta tra la Commissione di Vigilanza e le AGS. Facciamo presente anche che verrà istituito a breve l'Osservatorio del Commercio Suare Pubblica che potrà aiutare nel dialogo tra associazioni di categoria, AGS e amministrazione. Quindi stiamo incrementando un dialogo che fino ad oggi non c'era stato, l'Osservatorio non c'era, la Commissione di Vigilanza non c'era, le AGS erano abbandonate a loro stesse nei mercati. Quindi cosa facciamo? Quindi chiediamo che venga istituito questo rapporto corretto, che venga effettuata una corretta gestione. Inoltre chiediamo di valutare attentamente alla Sindaca e alla Giunta l'operato delle associazioni, come abbiamo detto prima, proponendo percentuali di abbattimento diversificate, migliorative, qualora fossero rispettati i seguenti criteri in tutto o in parte. Quali sono i criteri? L'utilizzo dei fondi affidati alle AGS per una percentuale superiore all'80% di quanto loro affidato, quindi ad oggi il 50%. La consegna dei bilanci degli ultimi tre anni, perché sembrerà strano, ma alcuni AGS e bilanci non li presentavano. Ci sarà anche un motivo, non lo so, indagheremo. La specifica delle voci di spesa relative alle polizie assicurative, la sicurezza, la custodia, la guardiania dei beni e delle strutture, la polizia, le utenze, la manutenzione ordinaria, le spese di gestione, l'accantonamento dei fondi, perché Roma Capitale ci vuole vedere chiaro su come vengono spesi questi fondi. Qualora sia una corretta gestione non ci sarà nessun problema a chiarire insieme quali sono le necessità. Anche in caso di organico dei mercati ridotto a meno del 50% dell'organico massimo previsto per il fallimento, la riconsegna dei titoli o la chiusura dell'attività, anche questo sarà un criterio affinché la Giunta proponga all'Assemblea di rivedere le percentuali di abbattimento dei canoni. Quindi noi apriamo la possibilità, ma solo a fronte di uno studio approfondito, a fronte di un dialogo serio, a fronte del dettaglio di come vengono spesi i soldi. E i soldi possono essere spesi per molte necessità, ma ci sono anche le urgenze. Quindi se noi andiamo a fare in un mercato l'illuminazione a LED, che è un'opera sicuramente utile, che abbassa i costi di gestione quando ci sono gravi carenze di manutenzione ordinarie, non stiamo facendo la cosa prioritaria in quel caso. Ho fatto un esempio specifico. Se dimostrato che magari spendiamo cifre esagerate per lampadine rotte e per altre tipologie, andremo a verificare le fatture derivanti da queste spese, perché in alcuni casi sono venute fuori delle spese poco giustificabili o poco comprensibili. Quindi vogliamo vederci chiaro. Però, ribadiamo, siamo disposti a rivedere le percentuali di canoni, come già sempre detto, per le AGS virtuose. E con questo ordine del giorno lo chiediamo alla Giunta e alla Sindaca. Grazie.